Una società che fa sport ormai da tanti anni, Olimpia Sporting Club, però ha difficoltà ad andare avanti perché le leggi qualche volta non tengono conto delle necessità magari sociali in cui si opera. Sì, è vero, noi siamo una società dilettantistica polisportiva che operiamo sul territorio di Montriuscello dal 1985, quindi nel 2000 sono 30 anni che io faccio attività territoriale e sociale. Purtroppo faccio un appello comunque al sindaco e all'amministrazione comunale perché non ce la facciamo a mandare avanti questa società in quanto le leggi prevedono il pagamento di IMU, di TARES, di spazzatura e tutto il resto appresso. A quanto ammonta è quello che dovrebbe dare allo Stato? Dal 2008 ad oggi ammontano quasi tra spazzatura e IMU, non ho soldi per pagare sinceramente, quasi 100.000 euro. Come pensa di andare avanti? Non lo so, ho chiesto al sindaco di venire in un incontro per questo problema, però non ho saputo niente, non mi hanno dato risposta e quindi stamattina sono andata alla posta, mi hanno notificato che devo pagare, se no mi pignorano il mio stipendio, 15.000 euro. Le rette che pagano i ragazzi non sono sufficienti a coprire le spese? Assolutamente no, noi siamo una società, associazione sportiva privata e abbiamo i corsi la mattina con persone pensionate, pagano 10 euro al mese, i bambini del calcetto pagano 25 euro al mese, i corsi della ginnastica, della ginnastica artistica a livello, siamo comunque società affiliati al CONI, al registro CONI, siamo a posto con tutte le norme vigenti, pagano 30 euro al mese, le nostre quote sociali vanno dai 10 euro ai 40 euro, dipende dai giorni che fanno attività, tutti i giorni le bambine che fanno la CONI pagano 50 euro, però vengono alle 3 e mezza e se ne vanno alle 6 e mezza, fanno quasi 3 ore al giorno.